Ciolino è venuto a trovarmi da molto lontano, è atterrato a gennaio in Italia, vuole scoprire il mondo partendo da qui, ha partecipato al brano Casa Mia, che dire, sarà probabilmente sul palco con me, non so quando, non so se stasera o nel finale, non vuole che spoilero troppo, però di base abbiamo scritto il brano insieme, come se l'avessimo scritto insieme, giusto?